Sì, sono Serena, sono Lisa di notte. Ciao, sono Michele, questa sera mi hanno obbligato a dire qualcosa. Ciao a tutti, buonasera, mi chiamo Arturo. Ciao, sono Serena, ho 24 anni e sto alla facoltà di Ingegneria e di Architettura. Io sono Monica. Io sono Romano. Allora, noi di cose universitari ne capiamo tantissimo. Allora, io mi chiamo Cristian. Francesco. Non facciamo niente nella vita. Mangiamo, dormiamo e giochiamo a pallone. Bravo. Ciao, mi chiamo Matteo. Tu come ti chiami? Matteo. Che fantasia. Io mi chiamo Davide e vengo davvero sul Cusciano. Vabbè, mi chiamo Marco, studio Ingegneria Elettronica e... Ciao, io sono Donatella. Ciao, io sono Roberta. Io Ciccio. Alberto. Ciao, io sono Vincenzo, studio design e comunicazione ad Aversa. Ci sta molto bene, i ragazzi hanno organizzato tutto benissimo e ci piacciono tantissimo queste feste. Dopodomani c'è un esame, ma come vedete mi diverto. Ci piace la sera all'università, la mattina non tanto, non ci piace studiare. Questa serata è molto bella e vorrei che promuovessero più serate così all'università. E la serata è molto bella, anche se... lasciamo stare. E' una bella serata tranquilla. Vincenzo, i miei che mi hanno portato qui perché è la prima volta che vengo. E niente, siamo qua, stasera ci rileppiamo e facciamo una bella serata. Sì, una serata stipenda, piena di movimento. Sì. Vorremmo che ci puoi continuare in movimento. Ancora di più, sempre di più. Sì, sempre di più. Promuovete, feste, feste, feste. E... bella serata, facciamone di più, facciamo andare di più questa serata. Ci piace fare una festa, tutti in festa, tutta l'estate in festa. La serata è bella e... niente, sono le di più di queste serate. E' un copio di mezzo. Soprattutto abbiamo notato che c'è un grande campo dove si potrebbero fare tante cose, tante attività sportive, tanta ginnastica. Bella, bellissima serata. C'è il campo extra studio, diciamo. Tutto di sera e niente di giorno. Ok, niente, non cambiamo niente di questa serata. Niente. Erenen, cerca di un ragazzo, vi prego, aiutatela. Non lo so faccio più. Non è vero, l'ho trovato io il ragazzo. Perché non mi vuole. No, veramente, ha bisogno. Io non ce la faccio. Non mi vuole. Ti vuoi sposare? No. Ragazzi, io penso che questa sia una serata di gay. Ma guarda, ci siamo conosciuti appena la settimana scorsa. E' stato subito un colpo di fulmine. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi. Un bacione. E' stato un peccato che non abbiamo avuto partecipato al gay fight. Adiante l'avamo fatto valentina. Io non li conosco. Quindi evitate di venire. Siamo qui a Università di Pisciano. Bellissima serata, eh? Spettacolo, spettacolo. Va bene, veramente, veramente. Ragazzi, invitiamo tutti qui. Serate splendide. Va bene. Va bene così. Ciao. Saluto a tutti quanti. Il sito 089. Eh? Punto qualcosa. Punto lì. Dobbiamo dire anche qualcosa di sensato.